Esattamente 43 anni fa la conquista di Marte con la sonda Viking 1, indicata come il primo esempio di esplorazione robotica complessa nello spazio e prima partnership della NASA con l'Italia e in particolare il reparto di planetologia del CNR. C'è grande entusiasmo, sono passati solo 7 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna. La sonda Viking 1 resta in orbita un mese per la prima esplorazione, quella preliminare, quindi l'atterraggio e l'avvio di quella che poi è la sua missione, ovvero fotografare il pianeta di Marte e soprattutto studiare i componenti dell'atmosfera, in particolare il vapore acqueo. Tra l'altro viene inviata anche una seconda sonda, la Viking 2. Tempo della missione indicato sono i 90 giorni, ma sia l'orbiter che il lander funzioneranno per molto tempo ancora. L'orbiter finirà il carburante solo nell'estate dell'80, dopo aver compiuto 1.489 orbite attorno a Marte, mentre il lander invierà i segnali sino all'11 novembre del 1982. 182.